Marco Marsili, puoi raccontarci qualche episodio o un episodio che hai vissuto e che possiamo mettere in relazione con le rivelazioni da parte delle istituzioni? Certo, quello che mi viene in mente subito e immediatamente ed è accaduto più volte è che dopo il sorvolo a bassa quota da parte di oggetti volanti non identificati, da noi identificati come UFO o macchine extraterrestri, subito dopo o pochissimi minuti dopo, dopo che queste astronavi se ne sono andate, sono quindi immediatamente arrivati dei caccia, degli aerei militari a perlustrare la zona per diversi minuti, per lungo tempo, questo ho assistito personalmente io insieme ad altri testimoni, a volte a decine di testimoni e non una o due volte ma tantissime volte innumerevoli perché è dal 2009 che viviamo queste esperienze, quindi in circa 15 anni ne sono accadute di cose, quindi che significa? Che non mi stupisco che i militari sappiano tutto lo sanno sì, è evidente e quando queste astronavi sorvolano, io penso quando sorvolano a bassa quota destano l'attenzione a livello dei radar immagino e subito partono questi caccia, questi aerei per intercettare o comunque per verificare la situazione, questo è accaduto tante volte posso mettere in relazione questo certo